Buonasera, benvenuti, io sono Aldo Vinci e lavoro presso Masseria Torre Coccaron. Qui siamo al bar Piscina, come potete vedere abbiamo una piscina stupenda. Ci sono i lettini, c'è la sala del ristorante e poi c'è di nuovo il bancone. Oggi vi prepareremo un drink a base ovviamente alcolica e useremo della vodka alla pesca, un liquore della Giffard a base di albicocca, useremo degli sciroppi, fragola e papaya, useremo un succo di cranberry, useremo un centrifugato fresco di pesca e un po' di succo di lime. Ora andiamo con un drink making order. Rompiamo subito il bicchiere con il ghiaccio, preferibilmente usiamo un bicchiere a tulipano, preferibilmente per questi drink. Andiamo a prendere un tin, portiamo subito la prima base alcolica a mezza oncia, la seconda base alcolica a un'oncia, portiamo mezza porzione di fragola, mezza porzione di papaya, aggiungiamo il succo di cranberry a una porzione e andiamo a shakerare a caldo.